Sono un pilota dell'Aeronautica Militare Italiana e questa è la mia macchina, l'F35A. L'F35A è un caccia omniruolo di quinta generazione, è lungo circa 15 metri, largo 12 metri, raggiunge una velocità di un Mach 6, una volta e mezzo alla velocità del suono è un'altitudine di circa 50.000 piedi e il cielo lassù comincia a farsi veramente scuro. E la caratteristica principale? La sua bassa osservabilità. Ok, magari abbiamo un po' esagerato, però è invisibile ai radar. Quando volo questo è il mio equipaggiamento. G-Suit, giubbino da volo, casco e per ultimo guanti. Beh, adesso vi dirò perché amo volare con l'F35. Beh, l'F35 è la macchina più tecnologicamente avanzata disponibile alla NATO e alla nostra forza aerea. Mi permette di fare missioni prima impensabili e con facilità estrema. E poi, lasciatemelo dire, è veramente cool.